Oggi siamo qua su pikmin 3 ovviamente in compagnia di mio papà ciao Allora nell'ultimo episodio abbiamo fatto delle cose carine e siamo riusciti diciamo a avere una medaglia d'argento cosa che in realtà non eravamo mai riusciti a fare addirittura tu dici ok nel primo è così facile che ci riesci invece siamo riusciti nel terzo ma ok comunque siamo riusciti a sbloccare questo quarto abbiamo ovviamente sempre 10 minuti crateri arcipelago dobbiamo andare sopra il rosso l'acqua muoio l'ha visto se non stai attenta almeno quelli volanti magari si possono riuscire comunque abbiamo quelli gialli che resistono all'elettricità quelli rosa che appunto volano e quelli viola che sopravvigono diciamo alle cose belle no che sono molto forzuti quindi almeno questi sono comunque tutti e tre molto utili soprattutto quelli che volano secondo me sono i più utili che si abbiamo un limite di tempo sono le dici minuti se lanci mi lanci quella dove se mi lanci se mi lanci sto tizio lanciamelo lanciamelo lancia ok l'ho preso io l'ho preso io e merda bisogna prendi subito i pikmin io ho perso già un sacco di tempo come facciamo a camminare così e salta hai un salto no abbiamo perso vabbè tu prendi i pikmin che puoi noi veniamo un attimo è una parola ah salta solo e tu sai ah eccoli qua questi che sono quelli che volano no? si si parli prendi allora io non passo per di là tu rimani lì ok ah spacca quello spacca quel muro prima di tutto ok no noi non saltiamo lì quelle che vuoi non posso prendere queste mele e queste e questa si perchè stanno a mezzo all'acqua qui aspetto che spaccare il muro devo andare a far qualcosa qui sono quelli gialli ah stanno quasi per finire eh beh li sto raccogliendo quelli gialli perfetto e ora che fanno? che cosa? ah li devo fanno ah queste quelle elettricità si eh allora lancio così dai veloce mentre loro fanno dai ok ce l'ho fatta dove stanno? ah ok eh mentre loro sono pochi quindi sono spaccando io qui non posso fare niente le ciliegie che stanno vicino a noi lasciamole perdere cioè lasciamole per ultimo ok? si io intanto sto a facendo l'oro lo prendo? ehm si si potrebbe essere utile io sto aspettando di di poter andare su quella piattaforma per prendere quella frago scusa dai ma prima non lo potevo fare si ok hanno spaccato che stanno a prenderlo? si e ora posso prendere quelli volanti si ah io prendo questi intanto prendo 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 non lo faccio, prendo queste e loro... ancora stanno prendendo loro? Sì no, no, ho preso un pikmin prendo purtroppo mi raccoglio pure gli altri ok, prendo queste non mi prendo a fare il bondicello io sono salva ah, questi sono fermati qua e come faccio? ah, ci penso io, dove sei tu ora? guarda sei da l'altra parte dai salta salta salta, ok fammi riprendere tutti quanti così uccido questo intanto dove sei tu? eh, sto qua, guarda sopra adossano le mele ah, eccoci e devo spaccare il muro, aspetta eh, muovengo, aspetta, muovengo e finisco di lontro ti aiuto eh ok, perché sono sei vittima ah, non posso venire però come no? vieni prende la... capo io sono al centro sono praticamente al centro io sto camminando andiamo a due porta non so da ogni volta ma la vedo dura questa eh si, eh, no, no, non li prendi soltanto sia di cose volanti prendere se no, se no, no, se no rischiamo troppo io qui sto prendendo le ciliegie che non posso fare altro guarda io sto qua, eccomi eh oh, qui hanno finito ho spaccato, ho spaccato ma deve finire il più grande delle mie cose aiuto aiuto che c'è? ah, c'è il coso lo spagnolo ok è morto ma non è più più lo facciamo trasportare lo facciamo trasportare quest'altro lo facciamo trasportare cavolo, me l'ha presi tutte! papà non ci riesco, è troppo difficile eh, non so io non ci riesco cioè non... a me comunque stanno spaccando vedi il muro ah, io sono là sopra sono un po' più sopra eccomi vedi? hai visto? hai visto? no, di là eccomi ok, aiuto non ci c'è lì sopra no ma io l'ho preso oh è tutto strobolo che roba è quello? un bagarossa oh, non sono rimasti lì e cosa facciamo? perché... aspettate qui eccolo qui andò spaccato perfetto 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 qui a me stanno costruendo ma aiutami non ci stai vedete qua da quest'altra parte vedi? ah, eccoli qua tu prendi il cibo prendi il cibo eh, mi sa che c'è no, no quest'altro, quest'altro vedi la fragola non le prendere sti piccoli oh, io ti aiuto a fare ponte perché se no si si ma ho detto prendi le fragole eh, lo so ma ah, beh ci penso io ci penso io no, perché l'hai ripresa? eh, scusa sbagliato stavano già fatti e infatti non c'è mai il punto è quasi fatto eh? perfetto si, infatti hanno finito qua ce ne manca uno spieghi perché prendi nei pikmin perché non ti vedo via te ah, eccoli qua tu stanno andando ti manco eh, stanno tornando perché tornano sempre alla base al punto di partenza si oh, ce ne mancano quattro che ci vanno? il punto è stato fatto mi prendo questo quindi mi sprudo in modo di funghiere qua ah sì no, 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 attenzione che c'è quello grande c'è quello grande non so se ci riusciamo di cosa? vedi il suo tizio ah, ero il mio lo vediamo non ci diamo subito subito no? aiutami però vai, vai merdi sta mangiando tappi di qui no, 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 papà no, no, papà papà, 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 no, no, no no, no, no e lascia il tempo aspetta non che non vuoi di viore terri, ti fi appignativo non ce la manchia, non ce la manchia non ce la manchia, non ce la manchia dai qui vai 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 che c'è rimasto poco sei morti ah, sai che però si riprendono oh, ok oh, non siete davanti sulle tracole visto non ce la fanno però facciamo tutte le fragole dando a noi questo non ci interessa per il momento si 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 prendi che comunque questi tizi vedi come fa no perchè li riprendi ok perfetto non ci facciamo la promedaglia neanche di bronzo addirittura ne abbiamo fatto stupo mi ha appresso agli altri piccoli vediamo allo stanno si vabbè comunque ci abbiamo messa tutta alla fine sono qui sono qui guarda quanti ce ne sono e lo so a dove? eccoli vieni che ti lancio alcuni aspetta lontano di che ti lancio dove sei tu? ma come sei? sono là dietro ah eccoti perfetto tieni vai ti do un po' di questi un po' di questi e due di questi almeno siamo più o meno pari oh io prendo quella mela del gigante che ho visto mi sembra che ci stava qua no un uovo ah un uovo con altri forse altri vicini ecco non ci aprirgano ah mi servono quelli gialli bene perché ce l'ho no non ci riesco niente oh venite qui aiuto forse su ok stanno portando la mela papà guarda tanto voi venite di qua con me e ci li butto qua si muoiono? si muoiono solo quelli volanti ci puoi buttare e quelli volanti però nei pochi vero si e io ne ho tanti però ok io ti riprendo questi sono per esercitavo alcuni ma ormai è rimasto talmente poco tempo che non io sto prendendo le mele che ci sono qui dai un'altra forse ci riescono eh ma guarda dove passano non so no questi no questi non ci arrivano purtroppo infatti ci servono quelli gialli che arrivano tanto oh ci arriva ci arriva no si guarda capo uno ci è arrivato no no guarda ce l'avevo seccato ce l'avevo seccato io ce l'avevo seccato io ce l'avevo seccato niente limoni che fregatura sono portato in un'altra mela ma purtroppo probabilmente era stato così tanto il percorso che purtroppo non ce l'hanno fatta comunque siamo riusciti a prendere la medaglia di bronzo e ce l'abbiamo fatta secondo me molto molto per pelino diciamo eh per poco ok comunque abbiamo sbloccato un altro scenario appunto vi ripeto non sappiamo se magari prendiamo gli altri insomma poi comunque vediamo quindi qui c'è un altro di scenario molto 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 difficile devo dire sì e vedo sulla mappa del del gamepad che ci sono dei pikmin neri cos'è ma ma cos'è ma ma cos'è comunque io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao 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 ciao